Per me l'innovazione è risolvere problemi nuovi e vecchi trovando soluzioni nuove, cioè trovando nuove soluzioni per problemi che esistono. L'innovazione è sapere toccare il futuro, guardare il futuro, vedere qualcosa che è già realizzato e pensare a quello che c'è oltre il futuro. C'è una bella frase di Steve Jobs che diceva che quando sviluppare un prodotto bisogna avere anche la visione messianica del prodotto. Sapere, non so, io faccio l'esempio nel mio settore delle biotecnologie o dei nuovi materiali in medicina, Genentech è un'azienda che doveva fare la migliore ricerca per quei prodotti che dovevano curare le malattie, quindi un risultato tangibile, però alla base di tutto c'era il sogno. L'innovazione è l'uomo che è uscito dalle caverne, l'innovazione è l'icaro, chi ha visto il sogno, l'applicazione di qualche cosa e sapere guardare e soprattutto crederci. C'è la famosa frase di Edison dell'idea che non è solo fotointuizione, c'è tanto sudore, quindi sapere toccare con mano e avere la costanza come una maratona, questa secondo me è l'innovazione. Poi ci sono dei paesi che storicamente per una serie di ragioni, vuoi per flussi, per la sua cultura, per la sua politicità, sono stati più culla dell'innovazione rispetto ad altri. Poi sono quei paesi che sono un po' come il punto d'arrivo, ne pensiamo alla Silicon Valley, dove lì è l'ecosistema ideale, dove se io e te abbiamo un'idea, attraversiamo la strada, troviamo loro, gli avvocati, costituiamo la società, troviamo un venture capital e qualcuno che ci dà fiducia. L'innovazione è bisogno di queste cose, per l'innovazione è sapere guardare e soprattutto pensare che domani è un altro giorno, come diceva l'ultima frase del famoso film Via col vento, è quello, pensare che domani c'è un'opportunità, è questo, secondo me è quella l'innovazione. L'innovazione nel mio caso specifico è creare nuovi rapporti fra le persone e la tecnologia, perché la tecnologia è tutto sommato facile da trovare, in tutto il mondo ci sono varie aziende che dal punto di vista ingegneristico sono capaci di produrre le tecnologie più diverse, ma quello che poi è il fattore competitivo, quello che distingue una tecnologia dall'altro è quanto essa sa essere a misura d'uomo, quindi usabile, utile e anche piacevole da usare. E quindi innovare significa dare una nuova faccia alle tecnologie, avvicinare il più possibile alle persone. Per me l'innovazione è un qualcosa che sostanzialmente non si vede, direi quasi è niente, nel senso che non va confusa con l'evoluzione innovativa, ovvero è qualcosa che sopperisce a una necessità e che però proprio quando non la identifichiamo come innovazione vuol dire che ha innovato realmente. Quindi ad esempio potrei dire che internet, piuttosto che la lavatrice, sono innovazioni e l'iPhone invece è un'evoluzione innovativa di qualcosa che c'era già. L'innovazione vuol dire creare qualcosa che è nuovo, ma anche che aggiunge valore e quindi portare un valore nuovo verso il mercato. Questo vuol dire identificare un'esigenza vera e poi soddisfarla con un prodotto, un processo, un servizio che è innovativo, in senso che porta un'idea nuova, un miglioramento della qualità della vita e che quel valore aggiunto viene riconosciuto dall'utente finale che è disposto a pagare, questa decisione nessuno prende leggermente, pagare da tasca sua per riconoscere il fatto che la qualità della sua vita è migliorata da questo prodotto e servizio. Quando riusciamo a fare questo, portiamo un servizio, un bene all'utente finale e riusciamo anche a creare occupazione, a creare un business, a creare un'azienda che può stare in piedi.